un po' mi è da ride devo essere onesto perché in vita mia e vi assicuro che ne ho viste tante le partite di calcio ma il 10-0-0 come modulo mi mancava detto questo sono qui per commentare non solo Manchester City Atletico Madrid ma anche Benfica Liverpool che non è un consiglio ma una squadra di calcio e ragazzi Manchester City Atletico Madrid la partita sta per terminare il City con non poche difficoltà è riuscito a sbloccarla ma quello che mi piace è che appunto le partite non sono ancora finite e chi lo sa quello che potrebbe accadere partita in bilico inaspettatamente anche tra Benfica e Liverpool perché sono riuscito a far 2-1 ciao e ben ritrovati mi piace come sempre per supportare i miei contenuti vi fa sprecare calorie fate attività fisica inoltre se vi iscrivete e attivate la campanella perdete altre calorie non solo restate sempre aggiornati sui miei contenuti perché così ogni volta che pubblico vi arriva la notifica in tempo reale sul cellulare vi ricordo che ho anche altri due canali youtube che trovate in descrizione o compariranno qui durante il video passate sul terzo canale non non aggiungo altro altro che 5-5-5 De Oronzo Canà ragazzi sapevamo che sarebbe stata una partita da questo tipo di canovaccio tattico da parte dell'Atletico Madrid e da parte del Manchester City quando ho visto il dato statistico del possesso palla nel primo tempo in realtà mi aspettavo anche pensavo un 99% Manchester City un per cento Atletico Madrid invece non so come l'Atletico Madrid è riuscito a tenere all'incirca il 29-28% del possesso palla non me lo sarei mai aspettato scherzi a parte ma non troppo io parlerei anche delle scelte e delle assenze allora Ruben Dias, Mendy e Walker mancavano al Manchester City Carrasco, Jimenez e Herrera ovviamente mancavano all'Atletico Madrid le scelte che ha fatto Guardiola lasciare fuori calciatori comunque sicuramente importanti mi viene in mente che ne so io, aspettate, vi dico tutti perché sono 276.000 Zinchenko, Gabriel Jesus, Foden, Grealish anche, calciatori sicuramente importanti d'altra parte Suarez ha lasciato fuori Simeone per l'Atletico Madrid anche Le Mar che alla fine è un calciatore importante, Rodrigo De Paul, Correa e appunto ragazzi il canovaccio tattico dell'Atletico Madrid era quella, a parte scherzi, non era un 10-0-0, era un 9-1-0 no, era una sorta di 5-3-2 ma la cosa che mi impressiona di questa squadra parte i tifosi che continuavano dell'Atletico Madrid ad incitare, ad incitare, no? 3-1 Liverpool, quindi l'hanno chiusa da come aveva fatto sembrava avesse fatto un gran... vediamolo in diretta riparte... vabbè bella bella imbucata si ritrova solo davanti al portiere Scavetto ah no, salta e mette la palla in rete salta Luis Diaz è comunque gran bel giocatore, protagonista anche in occasione del secondo gol sponda di testa e non mi ricordo chi ha, butta dentro se non sbaglio Mané quindi Liverpool che la chiude e andiamo praticamente a dire che era quello che ci aspettavamo mo due paroline gliele dedico e resto veramente basito dalla tranquillità olimpionica dell'Atletico Madrid di soffrire, di lasciare completamente il gioco in mano agli avversari che ci hanno delle caratteristiche pazzesche dal punto di vista del possesso della palla dal punto di vista anche, no? dei passaggi rapidi e delle verticalizzazioni quando serve un primo tempo a mio modo di vedere perfetto e quando è finito il primo tempo ripensavo tra me e me e dico ma che cazzo di occasioni ci ha avuto il Manchester City con il 98-99% del possesso palla ci hanno avuto praticamente un cazzo due mezzi di occasioni ma niente di altamente pericoloso, no? e ho cominciato seriamente a pensare sentivo, mi pare, Marcheggiani che diceva eh ma tanto prima o poi non possono resistere per 90 minuti a giocare così, prima o poi l'errore prima o poi, l'errore alla fine gli ha attirata l'errore praticamente la difesa si è aperta e Kevin De Bruyne che se non sbaglio fa il suo primo gol in Champions League forse lo hanno detto qui su Sky non vorrei, mi sembra strano però mi pare che l'hanno detto vabbè, comunque la sta risolvendo lui, no? è ovvio che fosse l'Atletico riuscito e non credo ci riuscirà perché la partita praticamente è terminata hanno dato solamente due minuti di recupero e siamo già un minuto e tredici fosse riuscito l'Atletico Madrid a pareggiare almeno questa partita in casa del City probabilmente quella in casa loro sarebbe stata tutt'altra partita ciò non significa che è scontato che il City passi in semifinale dei Champions League fate particolare attenzione ragazzi perché l'Atletico ce l'ha dimostrato storicamente se becca la partita perfetta dal punto di vista tattico quando comunque c'hanno quelle possibilità di ripartenza o quando a un certo punto ragazzi stanno a pia pizze a un certo punto ragazzi li ho visti uscire palla al piede ma fraseggiavano con una rapidità nel palleggio e una tranquillità che veramente mi ha lasciato a bocca aperta questo per farvi capire che l'Atletico non è che non c'ha i calciatori per fare quel tipo di calcio perché la tecnica la qualità ce l'ha davanti a centrocampo e dietro il fatto è che Simeone fa del ciolismo il suo stile di vita gioca così è proprio il suo modo di giocare così come Guardiola fa del tiki-taka non più come lo faceva al Barcellona il suo lifestyle il suo stile di vita ogni allenatore gli piace giocare in un determinato modo c'è sta a chi piace essere soliti e alla prima ripartenza far male con i giocatori rapidi che c'hai e a chi piace tenere il possesso della palla per 90 minuti e non crea occasioni perché trovi dall'altra parte è una squadra che si mette così non lo so se alla fine passerà al City ovviamente aumentano le probabilità con questa vittoria ma secondo me la partita è cambiata nel secondo tempo anche grazie ai cambi che ha fatto lo stesso Guardiola no? Gabriel Jesus Grealish Foden hanno dato è finita in questo momento quindi tanta tanta roba hanno dato meno punti di riferimento e ragazzi alla prima occasione utile alla fine sono riusciti a sfangassela voglio proprio vedere quello che succede per quanto riguarda il Liverpool ragazzi particolarissima la partita del Liverpool perché nel primo tempo è stato un dominio totale in lungo e in largo con a te gran bel colpo di testa su assist di Robertson da calcio d'angolo Luis Diaz come dicevo prima colpo di testa mette manè praticamente te l'appoggiare te dominio totale nel primo tempo nel secondo tempo cambia completamente la partita Benfica che non c'ha più niente a perde Nunez che riesce praticamente a riportare la partita sul punteggio di 1 a 2 appena rientrati dagli spogliatoi al 48esimo 49esimo e addirittura Alisson che fa un miracolo e a momenti riescono nell'impresa di fare il 2 a 2 poi a un certo punto ho visto Alisson fa una sorta di finta e controfinta elude un attaccante che gli stava rompe scato e a momenti la perde perché gli è tipo un castrato nel sottopalla e poi è arrivato il gol del 3 a 1 che ha dato la tranquillità però guardandola insomma scontatissima nel primo tempo nel giro di un attimo è cambiato tutto e potevano eventualmente anche pareggiare questa partita credo che il Liverpool alla fine passerà senza troppi problemi soprattutto in vista di questo 3 a 1 dell'andata e credo che sia anche giusto in realtà perché qualitativamente il Liverpool è di un altro livello poi è ovvio che nelle partite si è che never say never sul City regà non mi sbilancio più di tanto perché non so così sicuro al 100% mi sono fatto influenzare dal buon Fabio che mi continua a di non pensare all'1-0 perché ne stavo parlando prima con lui non pensare all'1-0 pensa alla partita di ritorno che sarà una partita completamente no tatticamente no ma completamente diversa per alcuni atteggiamenti mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali i profili social tutto in descrizione i contenuti consigliati bella giornata dei Champions ciao regà ciao